anticipazioni una vita mercoledì 17 febbraio 2021 durante l'appuntamento tra susana ed armando quest'ultimo spiega per quale motivo si è così allontanato aveva timore di confessarle che re alfonso tredicesimo ha bisogno di lui è necessario svolgere una missione internazionale che potrebbe cambiare il futuro del paese e di conseguenza c'è bisogno di qualcuno che abbia esperienza susana dopo aver appurato questa notizia scompare dal quartiere tutti la cercano senza alcun risultato e la sarta sembra essersi volatilizzata in preda alla preoccupazione temendo che possa aver commesso una sciocchezza rosina e liberto decidono di rivolgersi al commissariato di polizia e denunciarne la scomparsa nemmeno armando riesce a trovarla josé ed emilio sono andati nella casa di produzione di alfonso per rubare tutto il suo materiale proprio in questo frangente però il produttore compare fermando i due che stavano provando a portare a termine il loro piano di alfonso per rubare tutto il suo materiale proprio in questo frangente di alfonso per rubare tutto il suo materiale proprio in questo frangente